Buonasera, iniziamo anche questa sera puntualissimi alle 21, l'ennesima puntata dei Rottamatori su Million Business Radio. Saluto quelli che si sono già messi in collegamento, vedo anche facce importanti, quindi li saluto. Attendiamo 5 secondi che qualcun altro si colleghi e poi partiamo. Ciao Michele, il primo a salutarmi, grazie. Di cosa parliamo stasera? Di un argomento che non è molto piacevole ma che purtroppo colpisce una grande fetta delle famiglie e degli abitanti italiani. Stiamo parlando dei debiti, credo di averne già parlato, i dati ad oggi parlano del 10% delle famiglie sovraindebitate. Sovraindebitate in maniera irreversibile e quindi sono famiglie che non riusciranno mai più a pagare i debiti che hanno contratto. Stiamo parlando del 10% delle famiglie italiane, se qualcuno conosce i numeri della popolazione italiana sa che le famiglie italiane sono quasi un po' di più di 25 milioni. Quindi stiamo parlando di 2 milioni e mezzo di famiglie che stanno combattendo contro il terrore dei troppi debiti. Quindi 2 milioni e mezzo di famiglie, 6-7 milioni di persone, un altro mezzo milione di famiglie, quindi altre 500 mila famiglie sono fuori da questa statistica per poche migliaia di euro. Quindi possiamo tranquillamente parlare di 3 milioni di famiglie. Cosa vuol dire essere sovraindebitati? Vuol dire non riuscire più a far fronte agli impegni che si sono presi e quindi buonasera Luca e quindi vivere in uno stato di ansia giornaliera, quotidiana, vivere problemi che sembrano irrisolvivere, vivere conflitti che si acquiscono giorno dopo giorno. Si sa che i problemi economici sono i primi distruttori dei rapporti sia personali sia familiari. Quante famiglie si sono sciolte, distrutte per colpa dei debiti? Quanti rapporti personali si sono distrutti, sciolti per colpa dei debiti? Quindi il primo effetto dei troppi debiti è la rovina dei rapporti interpersonali. Questa è la cosa più grave per poi finire alle conseguenze che già sappiamo. Chiedo innanzitutto prima di iniziare proprio ad entrarmi nell'argomento di fatemi domande per favore, fatemi domande perché la trasmissione è utile se io cerco o io tento di risolvere delle richieste che voi avete a rispondere alle vostre richieste. Quindi, ciao Adelina, quindi fatemi domande, sono qui e intanto vado avanti. Ok, ciao. Quindi quali sono le conseguenze dei troppi debiti? Stavamo parlando prima. Le conseguenze dei troppi debiti sono generalmente la rovina dei rapporti interpersonali che ha conseguenze devastanti in tutti i tipi di rapporti. Famiglie che si distruggono, società che si sciolgono, rapporti con soci che si rovinano, amici che ti abbandonano, amici che fanno finta di non averti mai conosciuto, persone che prima ti adoravano e che adesso ti denigrano, persone che ti consideravano prima un loro simbolo, un loro idolo e poi ti diffamano e poi ti insultano e poi fanno finta di non conoscerti. Queste sono i rapporti, cioè queste sono le conseguenze generalmente della situazione di sovraindiebitamento. Tutto questo dato da cosa? Dato da quella maledetta parola che come diceva Vasco Rossi ne ha uccisi più lui di che il petrolio ed è l'orgoglio. L'orgoglio ha rovinato un sacco di persone. L'orgoglio ha portato a fare una scelta drastica, definitiva a ormai mille persone dal 2012 ad oggi. Stiamo parlando praticamente di una persona per ogni giorno lavorativo che ha deciso di togliersi la vita perché non riusciva a sopportare l'onta di quello che viene definito un fallimento. Il fallimento è sempre stata considerata in Italia, un paese che già vede di brutto occhio la persona che si impegna a fare impresa. Il fallimento è sempre stata considerata un'onta. Il fallito è una persona da allontanare, tanto più che fino a pochi anni fa gli veniva tolto addirittura il diritto di voto. Come devo comportarmi con le finanziarie che mi chiamano Gian Mario? Bellissima domanda Michele, me lo scrivo e poi ti rispondo. Ok? Grazie per la domanda perché anche questa settimana ne abbiamo viste di tutti i colori finanziarie che chiamano. Ok? Quindi stiamo parlando di un'onta per cui viene ferito quella, quell'orgoglio che ci fa fare delle scelte irrazionali. Ok? Io incontro giornalmente delle persone che sono indebitate, sono stato anch'io, sono indebitato. Ieri ho sentito KinTV che è un mio ex cliente nell'attività precedente, avvocato, si è tolto da vita. Ecco, stiamo parlando proprio di queste robe. So come si ragiona quando si è in determinate situazioni. La paura non è quella di perdere un bene, perdere la casa, perdere la fabbrica, perdere... La paura è quella di perdere la dignità. E quindi la persona che si trova in questo stato, prima si chiude in un silenzio assurdo, non parla con nessuno, proprio per paura del giudizio degli altri. Siamo in Italia, paese di paesetti, paese di paesetti, paese del vicino di casa che legge il giornale per vedere la pagina delle case andate all'asta, per vedere se c'è qualcuno che conosce che ha la casa all'asta. Questo è il nostro paese. E si vive appunto leggendo il giornale per poter vedere se a qualcuno che noi conosciamo è successo qualcosa. Se noi guardiamo i giornali, da quelli nazionali, ma soprattutto quelli locali, privilegiano... Ciao Super Bubi! Privilegiano la notizia negativa che è quella positiva. E quindi c'è nell'animo delle persone la paura di quello che può dire la gente. Ormai l'Italia lo sappiamo come funziona, no? Vieni indagato per un reato, fino a prova contraria sei innocente, però per le persone sei già colpevole. Poi magari a distanza di anni viene dichiarato innocente, ma il giornale questo non lo scrive. Ha scritto tre anni fa che tu eri colpevole. E qualcuno continua magari a tirar fuori queste pagine di giornale senza possibilità di smentirle. Perché quello che era stato scritto, nessuno si è premurato di scrivere che invece poi sei stato assolto. Questo purtroppo è la situazione italiana dove si vive nel giudizio degli altri e si gode della disgrazia degli altri. Se ne è parlato più volte anche in questi giorni della differenza tra i paesi anglosassoni e i paesi latini, l'Italia in particolare. Negli Stati Uniti d'America l'aver fatto impresa è già una medaglia d'onore. L'aver fatto impresa ed essere caduto una o due volte è un punteggio privilegiato nel momento in cui vai a chiedere dei finanziamenti in banca. Perché vuol dire che tu ti sei dato da fare, ti è andata male ma hai saputo rialzarti e rifarle. In Italia se paghi una bolletta con un po' di giorni di ritardo sei considerato come minimo un cattivo pagatore e nel momento in cui vai in un supermercato, in un ipermercato a prendere una televisione a rata e si accendono tutti i lampeggianti di allarme. Ciao Roby. Questa è la situazione e quindi questa situazione ha portato molte persone a distruggersi psicologicamente e alcuni purtroppo anche fisicamente. Proprio perché nel momento in cui c'è la consapevolezza che non ci si può più far fronte a determinate situazioni debitorie, ci si chiude nel silenzio per la paura del giudizio degli altri, si nega ovviamente, si nasconde la realtà e si mette la testa sotto la sabbia. Non si ritirano più le raccomandate, non si ritirano più le cartelle esattoriali, non si risponde al telefono, si scappa ed è la peggior cosa che si possa fare. E qui mi ricollego alla domanda di Michele prima su cosa bisogna fare quando le finanziarie ti chiamano perché vogliono recuperare il credito. Cosa bisogna fare? Bisogna rispondere, bisogna combatterle con la ragione. Bisogna dirgli che non posso più pagare, punto. È inutile che mi rompi le scatole ulteriormente, non ce la faccio più a pagare, punto. Basta. Ma noi ti togliamo la casa, ok, venite avanti. Ma noi ti portiamo in tribunale, non vedo l'ora. Questo dovete rispondergli. E se insistono a fare più chiamate al giorno, oppure se a fare più chiamate in orari non consoni, oppure se, come è successo la settimana scorsa a un mio amico, un mio cliente, si presentano dal datore di lavoro per avere il numero di telefono della moglie, il mio amico, la settimana scorsa mi chiama, sono disperato perché continua a chiamarmi una finanziaria che vuole il telefono di mia moglie perché sua moglie aveva una finanziaria, non riescono più a pagare, sono in difficoltà economiche, non riescono a pagarle, punto. Non è che non vogliono, non ce la fanno. Ok, cosa è successo? Si sono presentati a scuola, questa fa la maestra elementare, si sono presentati due settimane fa a scuola dalla preside per farsi dare il numero di telefono della maestra in questione. Ok, cosa devo fare? Io ho detto, semplicemente, domani mattina quando ti richiamano, perché ti richiameranno, ok, dici che hai già presentato denuncia ai carabinieri, vedrai che verranno a più miti consigli. La mattina dopo hanno richiamato come previsto, lui ha avuto la forza di dirgli, perché quando sei una brava persona hai sempre paura di, ok, hanno richiamato e lui gli ha detto, guardi, mia moglie il numero non glielo do, ma siccome siete andati a scuola dalla preside a chiedere il suo numero, io ho già sporto denuncia ai carabinieri. Questa gli ha messo giù, dopo dieci minuti ha chiamato la direzione centrale della finanziaria a chiedere spiegazioni e a sincerarsi del fatto che fosse vero o no che avessero sporto denuncia. Non succederà più, mi dispiace, ma non si preoccupi, puniremo chi ha fatto questo errore, eccetera, eccetera. Cioè, la finanziaria è un ente che nel momento in cui ti dai soldi sa già che probabilmente non li pagherai più. Perché nel momento in cui uno si rivolge a finanziaria, si rivolge a quella entità perché in banca, nella sua banca non gli danno più soldi. E se la banca non ti dà più soldi, vuol dire che non sei finanziabile, vuol dire che sei fortemente a rischio di non pagare più le rate. Allora, cosa succede? Vai dalle finanziarie. Le finanziarie se ne fottono, scusate il termine, delle regole bancarie, interbancarie, Banca d'Italia, testo unico bancario. E nel momento in cui presenti una busta paga, una pensione, loro ti continuano a finanziare. Non vanno a indagare se tu hai o no altri finanziamenti o altri investimenti. Non lo vanno a fare. Non controllano neanche se la tua busta paga è vera o no. Io ho avuto a che fare con persone che hanno falsificato la busta paga per avere finanziamenti. E le finanziarie gliel'hanno tranquillamente dato. Quindi, è una situazione che bisogna affrontare a viso aperto. Nel momento in cui le finanziarie continuano a stressarti l'anima, tu gli devi rispondere per le rime. Se continuate così, io chiamo i carabinieri. Ma noi veniamo a casa, non lo potete fare. Ma ti pignoriamo la cucina e la camera. Sto dicendo gli argomenti che usano questi, per fare terrorismo psicologico nei confronti delle bravi persone. Ti pignoriamo la cucina, ti pignoriamo la camera. Non lo possono fare. La camera e la cucina sono impignorabili per legge. Ti portiamo via la casa. Non lo fanno, perché generalmente chi ha una casa, ce l'ha con un mutuo, c'è già sopra l'ipoteca del mutuo, la finanziaria lo sa benissimo che se anche fa azioni, non prenderà un soldo. Quindi, il massimo che può succedere, il massimo che può succedere quando smetti di pagare le rate e la finanziaria, è che fra 3, 4, 5 anni, tenteranno di pignorarti un quinto dello stipendio. Sto parlando di 3, 4, 5 anni. Tempo necessario e sufficiente per andare da quelle agenzie che nel frattempo avranno acquistato e riacquistato il debito a trattare per una rateizzazione più umana o addirittura un saldo estrarci. Ciao, Michi. Quindi, mi sono spiegato, Michele? Quindi, questa è la situazione per quanto riguarda le finanziarie. Stavamo dicendo, la paura di perdere dei beni porta le persone a nascondersi per paura del giudizio, non per paura della perdita dei beni. La paura è quella di avere il vicino di casa che ti indica come un fallito, la paura è quella di avere il giudizio dei tuoi familiari, i tuoi fratelli, i tuoi genitori che ti indicano come la pecora nera della famiglia è come quello che non è riuscito a fare le cose che voleva fare. La paura è quella di avere il giudizio delle persone, della gente, del paese, perché, come ho detto, viviamo in un paese di paeselli, quindi tutti si conoscono. E quindi cosa succede? Si mette la testa sotto la sabbia fino a che non scoppia, non scoppia il casino, non scoppia, non diventa evidente l'impossibilità di andare avanti così e di... scusa, gli strumenti per risolvere il problema dell'eccesso di debiti, tiene conto di questo? Cosa intendi per questo? Luca, la regia mi dice che abbiamo anche un commentatore, vediamo cosa dice sto commentatore, me lo fate sapere per favore, ok? non lo vedo, magari se me lo trasmetti sul telefono, ti posso... l'ho messo a schermo, non lo vedo, ma io sono un po' handicappato con gli strumenti tecnici, se mi aiutate, se me lo mandi per messaggio magari. Quindi, cosa stiamo dicendo? si ha paura di quello che dice la gente e si mette la testa sulla sabbia. Allora... Ok, grazie Luca, ho capito. È ovvio, come dice Luca, che le... i creditori hanno diritto a recuperare il loro credito, non si è mai detto di no. Viviamo in un paese in cui le regole sono ancora quelle, cioè, io ti presto dei soldi, ho diritto ad avere indietro. Ma ci sono delle regole, ciao Andrea, ci sono delle regole e vanno rispettate. Il recupero crediti, coloro che fanno come professione il recupero crediti, hanno un codice deontologico, hanno delle leggi da rispettare. Andare a casa o andare in azienda del debitore a parlare con il suo datore di lavoro, piuttosto che con la preside, piuttosto che con il responsabile del pronto soccorso per una infermiera, che è successa a mia cliente, è vietato dalla legge. Quindi, tu hai il diritto di recuperare i tuoi soldi rispettando la legge. Ok? Non si discute questo. Io devo darteli i soldi, se posso darteli te li do, se non posso darteli tu non puoi stressarmi l'anima. Ok? Tu devi adeguarti alle tue leggi e io mi adeguo alle leggi dello Stato. Finché potrò pagarti ti pagherò, se no cercherò le soluzioni per venire a un accordo, per essere tutelato dalla legge che c'è e poi la vedremo. Ok? Cosa succede a molti italiani? Cioè, qual è la mentalità nostra? Non sto guardando gli altri. La nostra mentalità è una mentalità fatalista. Ok? Quindi, si spera sempre che chi avanza soldi da noi si dimentichi. Beh, vi do una bella notizia. Non si dimenticano mai. Non si dimenticano di te. E, anzi, si incattiviscono se non ti sentono. Si incattiviscono se scappi. Si incattiviscono se non ti fai negare. Quindi è fortemente consigliabile, quando siano debiti, affrontare la realtà, affrontare la situazione. E venire ad accordi. I creditori non hanno nessun interesse a farti del male. C'è un detto, non mi ricordo più da dove viene, che dice che se hai 10.000 euro di debiti è un problema tuo. Se ne hai 100.000 di debiti è un problema degli altri, è un problema dei creditori. Ok? Ed è questa la realtà. Ok? La situazione, hanno tutto l'interesse a venire ad un accordo, hanno tutto l'interesse a provare a portare a casa i loro soldi. con le cattive, a parte qualche ignorante funzionario bancario che per principio o per stupidità prendono e partono con le azioni esecutive, nessuno ha l'interesse a dare il via ad azioni esecutive che portano a spese da sostenere, lungaggini, e poi a un risultato che non è mai quello che potresti ottenere. Quindi è giusto affrontare la realtà, lasciare fuori da questa situazione l'orgoglio, smetterla di pensare a cosa dice la gente. Ok? Mia nonna diceva sempre che, buona Veneta, se ognuno va in piazza con la propria croce, generalmente ognuno torna via con la sua, nel senso che sono proprio quelli che ti giudicano, sono proprio quelli che ti indicano che hanno problemi più grossi dei tuoi e ti indicano e ti giudicano proprio per giustificare la loro situazione. Ok? Quindi, io ci ho sofferto per molti anni, ho smesso di soffrirmi, non me ne frega nulla di quello che dice la gente, non me ne frega nulla dei giudizi degli altri, io so come sono io, so come sono, so che ho la coscienza pulita, so quello che ho fatto, so gli errori che ho commesso, ok? Ma io vado anche a testa alta e quello che dicono gli altri non me ne può fregare di meno. Ho smesso anche di rispondere agli insulti via Facebook, quelli pesanti, non mi fermo neanche a rispondere, vado direttamente in Procura della Repubblica a denunciarli, perché nel momento in cui tu ti esponi e nel momento in cui tu fai qualcosa, sarai sempre e comunque attaccato da qualcuno, sempre, ok? Che non vede l'ora di vederti cadere, per giustificare la sua mediocrità, per giustificare il suo non essere capace di fare nulla, passa il suo tempo ad aspettare che qualcuno che sta riuscendo a fare, cadi, e facendo qualcosa è anche facile cadere, ok? Torniamo all'orgoglio, lasciamolo perdere questo orgoglio, lasciamolo da parte, non vale mai la pena di fare una brutta vita per problemi che sono prettamente economici e che sono sempre risolvibili, sempre risolvibili, non c'è nessun problema che non sia risolvibile, altrimenti non sarebbe un problema come ci insegnavano a scuola, se non è risolvibile non è un problema, quindi è inutile preoccuparsi. Tutti gli altri problemi sono risolvibili. Il decidere di togliersi la vita è l'errore più grande che ci possa fare, ok? perché non risolve i problemi e non si può tornare indietro, non è un problema risolvibile quello. Per tutto c'è una soluzione, soprattutto per i stati di sovraindebitamento. Gli strumenti ci sono, ok? Sono vari, ce ne sono, ok? E in questi anni, facciamo i numeri prima, 2 milioni e 450 mila famiglie in stato di sovraindebitamento irreversibile, 245 mila abitazioni andate all'asta nel 2018. Si prevede che nei prossimi tre anni le abitazioni che andranno all'asta sono circa un milione e mezzo, ok? Nel 2018 gli immobili che sono andati all'asta hanno un valore stimato di 36,4 miliardi, cioè stiamo parlando di cifre incredibili, cioè perdiamo mesi, settimane per gli operai della Whirlpool di Napoli, sono 400 famiglie, sono 400 famiglie e per carità è brutto e non è mai bello perdere il lavoro, ma ce ne sono 245 mila che hanno perso la loro abitazione quest'anno, di quelli non ha parlato nessuno, di quelli non se ne occupa nessuno, anzi i giudici delle esecuzioni non rispettano, non applicano nemmeno la legge e fanno sloggiare le persone ancora prima dell'asta nonostante sia stata approvata una legge che ne vieta l'esecuzione, ok? Questo è il nostro paese, quindi è giusto prendere la forza, non nasconderci sotto la sabbia, la testa, e affrontare il problema, affrontarlo il problema, non scappare, non aspettare che qualcuno lo risolva per voi, non aspettare che qualcuno si dimentichi dei vostri debiti, non aspettare che magari succederà qualcosa, non aspettare che la prossima asta chissà che vada deserta, ok? Perché noi siamo fatti così, questo è il nostro modo di ragionare, affrontiamolo il problema, e ci sono gli strumenti per affrontarlo, la legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento è lo strumento principe per affrontare questo problema, per pagare i debiti che si possono pagare, per cancellare i debiti che non si potranno mai pagare, e per poter un giorno ripartire puliti da tutto e poter ritornare risorse per il nostro paese, per la nostra famiglia, per la nostra comunità. Legge 3 del 2012, ok? Non c'è altro sistema per liberarsi definitivamente dallo stato di sovraindebitamento. Non è un miracolo, non ti cancella i debiti per miracolo, non ti salva la casa e ti cancella i debiti, non è gratis, ma è la cura definitiva a una malattia grave. Allora, se io ho una malattia grave, faccio di tutto, li trovo i soldi per andare dal miglior luminare al mondo a farmi curare. Perché, nonostante quello che pensano tanti, se aspetto il servizio sanitario nazionale, sono un fregato, e che da noi va bene anche. Ok? Quindi, il sovraindebitamento è una malattia grave, è una malattia grave, che mi può portare conseguenze fisiche e psicologiche, e ne conosciamo di persone che hanno avuto conseguenze fisiche e psicologiche. Quindi, è giusto curarla, è giusto far di tutto per curarla, è giusto non nascondere la testa sotto la sabbia, ma prendere di petto la situazione, e andare da quei medici preparati per curare questa malattia. Sovraindebitamento è una malattia. Non c'è nulla da vergognarsi, non c'è nulla da scappare. Siamo incappati in delle situazioni che ci hanno portato ad accumulare dei debiti, e lo Stato, la legge, come succede in tutto il resto del mondo, ci dà la possibilità di mettere a disposizione quello che abbiamo per risolvere definitivamente questa situazione, ed è giusto prendere in considerazione questa cosa. Non è giusto nascondersi, e non è assolutamente giusto scappare per paura del giudizio degli altri. Ma andate a fanculo quelli che parlano di voi. Scusate il termine, lo so che non si dovrebbe dire, ma mi è scappato. Fregatevene altamente del giudizio della gente. Fregatene altamente del giudizio delle persone che leggono i giornali per vedere se ci siete voi che avete la casa all'asta. Sapete qual è la pagina più letta su un quotidiano, soprattutto locale? Ok? La pagina dove ci sono gli annunci mortuali. Tanto per farvi un'idea di che mentalità noi abbiamo e su cosa viviamo. Ok? Quindi, ripeto, torno a ripetere, lasciamo da parte questo nostro maledetto orgoglio. Non è una colpa avere avuto difficoltà economiche, non è una colpa avere fatto un'attività che poi è andata male, anzi, anzi, deve essere un orgoglio aver fatto qualcosa e purtroppo avere magari avuto degli inconvenienti. Vi ricordo che dati di due o tre anni fa, quindi neanche recenti, 14.000 aziende sono fallite per colpa dello Stato che non paga le fatture. cioè questi 14.000 imprenditori cosa hanno da vergognarsi? Addirittura lo Stato non gli ha pagato le fatture. Figuriamoci cosa hanno da vergognarsi gli altri che hanno avuto difficoltà perché è stata tutta una catena di fallimenti dovuti alla crisi immobiliare, alla crisi finanziaria, al calo dei consumi e tutto il resto. Quindi togliamoci di torno a questo maledetto orgoglio, andiamo avanti, affrontiamo la realtà e usiamo gli strumenti che la legge ci mette a disposizione per combattere questa situazione, per pagare i debiti in maniera umana e vedersi stracciato i debiti che non possiamo più pagare e non potremo più pagare. Ok? Io vi saluto, vi auguro buonanotte, vi dico già che la settimana prossima non ci sarò perché sarò in giro per l'Italia a divulgare queste notizie perché è giusto che tutti sappiano che si può uscire dallo stato di insolvene abitamento, ci ritroviamo magari fra 15 giorni ma comunque vi aggiornerò su quando andrà in onda, vi ringrazio per avermi seguito, se avete domande scrivetele nei commenti e poi magari vi risponderemo direttamente sui commenti o alla prossima puntata. Buona serata, buonanotte, vi ricordo che potete seguire questa trasmissione anche in differita sulla pagina Facebook di Million Business Radio, sul canale YouTube, sul nostro sito internet www.millionbusinessradio.it ok, e su tutti i canali, Spreaker, iTunes, Alexia e tutte quelle cose che io non conosco perché sono mezzo analfabeta. Vi ringrazio, è stato un piacere, buonanotte, buona continuazione di serata perché io continuo e ci vediamo la prossima volta. Buona vita. Buonanotte.